Salve a tutti e benvenuti a questo video sul deck, in particolare, Liven Warlock. Liven Warlock è considerato oggi come il deck dal power level più alto, secondo Viceo Syndicate, per quello che riguarda appunto la forza del deck ma non la sua popolarità. È un deck che è stato utilizzato da molti giocatori anche a livello competitivo per quello che riguarda tornei ed è una delle prime scelte per quanto riguarda la ladder. Quali sono i motivi? Per quale motivo Liven Warlock è uno dei primi deck che noi vogliamo giocare per ladderare, uno dei deck migliori che noi vogliamo giocare per ladderare. Principalmente possiamo andare a vederlo sotto quello che riguarda la questione dei match-up. Bisogna andare a vedere Liven Warlock, vediamo che in questo momento ha dei match-up tutto sommato buoni contro la maggior parte dei druidi. druido che è effettivamente la classe più giocata in questo momento su tutti i livelli di ladder. Molto molto forte druido in questo momento. Quindi Liven Warlock può essere una scelta se noi incontriamo tanti druidi in ladder. Ovviamente contro Town to Druid non è proprio il massimo, però druido in ladder non è esclusivamente Town to Druid. La gente lo gioca anche con Maligos, Combo, Toggo Waggle, Mila Druid, Token Druid, eccetera, eccetera, eccetera. Ha un match-up discreto, comunque positivo, contro Hunter e anche Hunter ne troviamo molti in ladder. Ha un brutto match-up contro Big Spell Mage e contro Alunet Mage o Tempo Mage. Ma effettivamente in questo momento il Mage sta al limite basso delle classi per quanto riguarda l'utilizzo in ladder. Quindi noi ne incontriamo tanti Mage, ok, in ladder, se non sbaglio, a livello di percentuali. Mage è la per ultima classe a livello di win rate per quello che riguarda lo standard, va bene? Andiamo a vedere poi dopo contro Paladin, contro Paladin, contro il nostro Even Warlock, contro Even Murlock Paladin e Odd Paladin a match-up dignitoso. Molto buono contro Odd Paladin, visto che abbiamo accesso ad area d'effetto come The File e Elfire. Ieri abbiamo anche il doppio Dread Infernal, nel caso in cui non teccassimo la lista, la lista che può essere teccata lo vedremo alla fine di questo approfondimento. Passiamo quindi a vedere la situazione contro Priest, siamo ancora in break-even, troviamo Rogue, abbiamo un match-up leggermente favorevole contro Miracle Rogue, ma non è un match-up impossibile. Ieri sentivo Aglie Strasza, che stava giocando anche lei, Even Warlock, stavo guardando la sua live, io sono sempre collegato su Twitch, e diceva che secondo lei il match-up contro Rogue è più che leggermente favorevole. Io ho giocato contro il Miracle Rogue con Even Warlock, ci ho perso due partite super close, ma anche perché è stato un filo sfortunato, secondo me. Odd Rogue, Even, il match-up alla pari, molto bene, e poi abbiamo contro Even Shaman, che è una lista abbastanza forte, performante, abbiamo un ottimo match-up dominante, e abbiamo anche un match-up favorevole contro Shudder Walk Shaman. Quindi effettivamente, se poi dopo andiamo a vedere Post Shudder Walk Shaman, Warlock e Warrior, vediamo ancora del verde. Quindi in questo momento effettivamente, secondo me, a mio avviso, se avete bisogno, cioè se siete alla ricerca di una lista con cui ladderare disperatamente, perché volete chiudere il vostro rank 5 per il reward di fine mese, perché magari vi sentite pronti per chiudere Legend, ok? Vi sentite pronti per chiudere Legend perché avete chiuso il rank 1 il mese precedente. Even Warlock, io ve lo consiglio caldamente. Possiamo parlare poi adesso in dettaglio, come gioca la lista e quello che vuole fare. Però andiamo a vedere il Mulligan. Andiamo a vedere un attimo il Mulligan. Mulligan per quello che riguarda l'Even Warlock, senza mettere una selezione particolare della classe, quindi non vedendo particolari match-up, è abbastanza semplice. Ci piace sempre Mountain Giant, ci piace quasi praticamente sempre Twilight Drake. Bulgaro Munculus anche di Mulligan è una carta buona, soprattutto se abbiamo in mano l'Ametista. Come vedete la Mulligan Weirate dell'Ametista sta al 57.1 in verde. E' interessante questo da notare, anche qua il Drone Win Rate che aumenta su Luke Ed River e aumenta anche su Blood River Gildan. Quindi effettivamente sia Gildan, sia Luke Ed River e le doppie Ametiste sono delle carte che quando vengono pescate all'interno della partita aumentano di un po' la nostra win rate. Sono carte molto forti, come anche il Mountain Giant al 58.6. Queste sono considerazioni da fare e sono importanti, ok? Come anche la Play Ed Win Rate, cioè Play Ed Win Rate su Mountain Giant è 61, su Twilight Drake è 57, ok? Su Blood River Gildan è 58, 57, Leech King è 57. Sono carte che hanno effettivamente la forza di swingare il match-up. Alcuni giocano Siphon Soul. Cosa ne pensi tu? Questo, di questo ha parlato oggi Stan Cifka mentre giocava l'Even World. Il fatto che alcuni giocatori decidono di teccare un Siphon Soul in copia singola. Per Stan Cifka è sbagliato. Per Stan Cifka è sbagliato perché? Perché questo deck vuole giocare tutte delle carte, quindi la lista è molto staccata. È difficile andare a tagliare carte per giocare un buon all-rounder come il Siphon Soul che però in realtà Stan Cifka dice Sì, Siphon Soul è una buona carta, ma non è una carta stellare. Io in questo deck, nel mio Even Warlock, voglio giocare delle carte che se inserite nel momento corretto vanno proprio a spaccare la partita. Mentre invece Siphon Soul è una carta reattiva. È una carta reattiva che vuole essere giocata su un grosso minion dell'avversario e si presuppone che noi stiamo indietro su board quando andiamo a giocare Siphon Soul. È rallenta, è una carta molto lenta. Perché Stan Cifka cosa dice? Stan Cifka per quello che riguarda l'Even Warlock dice Questa è una lista, bene o male, che fa delle grosse power play tempo based grazie a Mountain Giant e grazie a Wicked River 4 mana, 7-7 taunt, 3 mana o 4 mana, 8-8 Quindi fa delle grosse tempo play su mid stage, ok? Mid stage o late stage Aiutandosi con strumenti di control come Doomsayer. Doomsayer è una carta importantissima in questo deck. Perché? Perché noi vogliamo giocare Tap, proteggerci eccetera E poi a un certo punto uscire a turno 3 Doomsayer, ok? Turno 3 Doomsayer Tap Bloccare iniziativa all'avversario Doomsayer è una carta fortissima È una delle mie carte preferite di Airstone Perché questa carta, il suo utilizzo è questo Voi lo leggete come 2 mana, 0-7 All'inizio del tuo turno distruggi tutti i minion Io la leggo come 2 mana Se non viene rimossa, riprendi iniziativa su board Ovviamente ci sono delle condizioni Se tu giochi Doomsayer e il tuo avversario c'ha giù Kern Quando il Doomsayer popperà Popperà tutti i minion con detrattol E se l'avversario è una board piena di minion con detrattol Ovviamente l'iniziativa non ci verrà ridata Partendo dal presupposto in cui noi giochiamo un Doomsayer Che non viene contestato senza minion con detrattol Doomsayer si legge Il Doomsayer come carta è È uno strumento per list e control Da utilizzare principalmente in early game O eventualmente protetto da un taunt O in combo con effetti di congelamento come Frost Nova È uno strumento da early game per deck control Che ci cede iniziativa Ci dà iniziativa Quale deck? Quale deck vuole avere iniziativa Se non l'Even Warlock Che si può permettere di giocare un 3 o 4 mana 8-8 O addirittura al Twilight Drake Con 4 mana 4-10 Quale è il deck? C'è il senso l'Even Warlock Che esattamente vuole questo Resetto iniziativa inizio partita Se sei aggro ti metto in difficoltà E poi vengo giù con le mie power play Mountain Giant Mountain Giant Twilight Drake Vado in progressione Dread Infernal Poi gioco l'Expelstone 4 mana 7 danni Mi curo Eccetera Questo diciamo È un'introduzione per quello che riguarda l'Even Warlock Una piccola descrizione del deck Che veramente come dice Stan Cifka Sembra una lista control È una lista control bene o male Però è una lista che ha la capacità Di fare dei power turn Grazie a Luke and River Grazie al Mountain Giant E quindi di tempo swingare In modo importante All'interno della partita su board Ok? Per quello che riguarda invece le deck Ho visto oggi Cifka A me piace la sua Come ha deciso di deckare L'ho visto anche ieri Quando ho giocato contro un ragazzo Che giocava anche il Siphon Soul Preferisco semplicemente Teccare un singolo Skull King Gaste Al posto di un Dread Infernal Per migliorare il matchup contro Druido Per quello che riguarda questo video Con il suo Even Warlock È tutto Io vi ringrazio per aver seguito E spero che vi sia piaciuto Questo approfondimento Grazie a tutti Grazie per la visione!